Chaos in Rai, un altro conduttore lascia la rete e approda la 7. Flavio Insinna, noto per il suo impegno come conduttore nei programmi e affari tuoi e l'eredità, sta per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Secondo quanto riportato da Dagospia, Insinna prenderà le redini di un nuovo game show che verrà trasmesso in prima serata, proprio prima del telegiornale condotto da Enrico Mentana. Dalle informazioni che circolano, sembra che Insinna abbia atteso pazientemente una proposta interessante dalla Rai, magari un ruolo in una nuova serie televisiva o in un progetto di spicco. Ma dopo un lungo periodo di incertezze e silenzi da parte della Rai, ha deciso di guardarsi attorno. La 7 ha colto l'opportunità e gli ha offerto un progetto che sembra essere all'altezza delle sue aspettative. In una recente intervista rilasciata a TG20, Insinna ha condiviso i suoi pensieri sulla sua situazione contrattuale e sulle sue aspirazioni professionali. Ha sottolineato di non essere legato esclusivamente a nessun canale, aggiungendo che firma contratti solo quando il progetto è realmente convincente. In fondo, viviamo in un paese libero ha detto Insinna, e il fatto che un progetto piaccia alla Rai ma non ame non vuol dire che non sia un buon progetto. Semplicemente, potrebbe non essere il giusto per me. Tuttavia, sono sempre pronto a valutare nuove e stimolanti opportunità che si presentano.